Lautaro in aria! La parata di Tataruzano! Miracolo ragazzi! Miracolo di Tataruzano su Lautaro Martinez, Inter vicino al gol con adesso invece un secondo corner per l'Inter ma veramente prodigioso il portiere del Milan su Lautaro Martinez. Grandissima parata con la mano destra che riesce a respingere oltre la traversa su un tiro veramente a colpo sicuro. Recupera ancora il Milan ma la perde subito. Ciala, bravo al destro! Alto sopra la traversa, aggiustiamo la mira ragazzi. Per il momento sembra una sorta di monologo interista. È un monologo interista. Hanno messo Messia su Cialanoglu ma era qui libero di tirare troppo. L'Inter ne ha effettuati tre, due fuori e uno con una grande parata di Tataruzano. Siamo al nono minuto del primo tempo. Pallone per Skriniar che è molto avanzato, può provare il cross, arriva il cross in mezzo Lautaro, ho visto dentro, ho visto dentro, ho visto dentro. Invece la palla è fuori di poco alla sinistra di Tataruzano. Ottimo il cross di Skriniar, grande inserimento e taglio sul primo palo di Lautaro che lascia Pierre indietro. Il colpo di testa è bellissimo, palla che esce veramente di niente. Ancora Lautaro in aria, si gira benissimo, palla per Dzeko, vinta! Rigore, rigore, rigore! Come no, come no, come no! Come fare un bel rigore? Come un calcio di rigore? Ragazzi, questo qua è rigore netto. Ma, 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 oh! Vai a vederlo. Stai calmo, stai calmo. Come fa a non vederlo? Scusami, ma c'è bisogno del VAR. C'è il VAR, c'è il VAR. Lì, in questo momento ha fischiato un calcio di punizione per il Milan, ma certamente ci sarà un VAR in corso. No, si è sgambettato da solo. Non c'è, non c'è, non c'è. Lo tocca solo sopra. Mi sembrava veramente che gli agganciasse la gamba, invece non lo tocca. Pensavo ci fosse stato un incrocio di gamba. Non ha avuto ragione l'arbit. Buono, il pallone di Ciala per Skriniar, palla per Mkhitaryan, può andare largo per Di Marco, c'è spazio per Dina per crossare, stop e crossa, arriva il cross in mezzo, mette fuori Calabria, ma che arriva Barella che tutto sopra! Calcia! Provare il tiro! Tira verso la porta, si mettono quattro maglie rosso-nere davanti, forse l'ultimo tocco di Gabbia, adesso comunque di un giocatore di Mkhitaryan, corner per l'Inter, però qua Barella forse ci ha messo un attimo di troppo per sistemarsi il pallone per poi tirare col destro. Attenzione! Ciala col destro, arriva il cross in mezzo! Fuori, fuori. Previazione di Skriniar, alto sopra la traversa. Parte il cross di Ciala, di testa l'autorica! E' il corso! E' il corso! E' il corso! E' il corso! Grande Lauti! Grande Toro! 1-0 per l'Inter! Grande Toro! Crosi Ciala, testa del Toro! Tataru Zanu battuto, 1-0 per l'Inter! E' il Toro! Lautaro Martinez! Dai ragazzi, bravi, bravi, bravi! Hai visto Tataru Zanu? Grande Lautaro! Tataru Zanu era inchiodato sulla linea di porta. Ma lui sta sulla linea, lui sta sempre sulla linea. Inchiodato sulla linea, ha preso gol sul suo palo. Il vantaggio dell'Inter decisamente meritato, era solo questione di tempo. Dopo tre volte in cui Lautaro, due volte Lautaro e una spinner sono andati vicino al gol. Questa volta il gol è arrivato per davvero sul calcio d'angolo di Cialanoglu. La dormita della difesa rossonera, palla nel cuore dell'area di rigore. Cross Lautaro! La salata ancora di Tataru Zanu! Palla che viene rimessa in mezzo, Gabbia la mette fuori. Poi Michi al limite dell'area, Michi. Poi Barella, Barella non ti giri lì, non puoi girarti lì. Palla per Ciala che può allargare. No, la dà Lautaro, non si capiscono i due. Poi un rimpallo. E alla fine c'è rimessa dal fondo per il Milan. E' un Milan aggressivo. Diaz adesso al centro. Dai Diaz ancora lì. Tira! Oh no! Ma Barella deve smettere! Oh no! E' un Milan aggressivo che non molla, che pressa. Finalmente vediamo il Milan che sognavamo di vedere. Ma cosa fa? Dai Diaz! Riparte con Leao! Dai che c'è una fratteria davanti! Corre Leao! Palla al piede! Dai, 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 dai! Uno che torna davanti e entra in area! No! Apponta su Giroud! No! No Giroud! No Giroud! No Giroud! Sale Meccan ancora! Riproviamoci! Dai! Dai Diaz! Dai Diaz! Ancora limite dell'area! Fallo su Diaz! Che occasione straordinaria! Aveva fatto una grande giocata reale! Non l'ha stoppata bene! Ma cosa fa? Ha appoggiato su Giroud che ha sbagliato il controllo! Era da solo in area e gli mancava solo il tiro! Ma cosa fa? Che occasione clamorosa! Ma cosa fa? Ma gioca la sta palla! Al limite dell'area di rigore! Cosa fa? Dai! Che la andiamo a raddrizzare! Dai ragazzi! Su! Attenzione! Barella! Barella! Autoro! Fuori gioco! Fuori gioco! Ancora! Leao! Recupera la palla! Diaz! Giroud! Diaz! In area! Mamma mia! Mamma mia! Andietro appoggia! Stai giù! Mamma mia! Ma sonia! Ma sonia! Ma sonia totale! Rischio! 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 Dai! 93 di gioco! Si è fatto sentire Diaz però da quando è entrato ragazzi eh! Si si è vero! Possiamo dirlo che il Milan è cambiato? Da quando sono entrati dei giocatori che devono giocare? Si ma tanto non segni! Lancio lungo! A cercare Lukaku che fa sportellata in mezzo a due! Lukaku! Ancora in area! Lukaku! Mamma che parata! Salata Rusano ancora una volta! Mamma che parata ragazzi! Dice di no! 95esimo che scocca adesso! Vediamo quanto manca alla fine! Finita! 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 No? No no non è finita! Ma cosa? Ma perché mi... Ma perché mi prendi... Ma porca Eva! Perché vogliono andare a casa Fusano! Ma scusate! Ma mamma mia! Ha messo il fischietto in bocca! Manca un'ora e me... Eh! Manca un minuto e mezzo ancora! Rimesso dal fondo! Ma rim... Ha rimesso a Mila! Ma scusa metto il fischietto in bocca! Funti su! Proviamo! Fischia! Proviamoci! Proviamoci! Ultima palla! Fischia! 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 Porca miseria! Avevano i gol! Aspettate! Avevano i gol! Ammettila! 1-0 per l'Inter! 3 punti fondamentali! Bravi ragazzi! Bella lì! Bravi! 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 Si può buttar via una partita così? In 15 giorni! Bravi ragazzi! Bravi! Si può buttar via una partita così? Ma si può buttar via una partita perché un allenatore mette in campo una formazione che non ha né testa né piede? Ma si può fare una roba del genere? Io sono, è la dimostrazione che nel secondo tempo quando l'assetto del Milan è cambiato qualche cosa in più si è visto, nulla di trascendentale, ma si è visto una partita equilibrata con qualche opportunità che ha avuto il Milan. la formazione nel primo tempo è stata sbagliata al 300% e la dimostrazione viene proprio dalla ripresa dove il Milan almeno qualche cosa è riuscito ad abbozzare in fase offensiva. Comunque non fa una grenza questo risultato. l'Inter l'ha meritato sia per il primo tempo e anche per il secondo tempo. Di un primo tempo. In questo tempo. Grazie.